Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili un chilometro di coda per lavori tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Prosegue la chiusura della statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano all'altezza del chilometro 40 e 500 per Caduta Massi. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Ricordiamo infine l'obbligo di catene a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!